Slitta la prossima settimana la decisione sulla possibile riapertura della E45 chiusa da Valsevignone a Canili per il sequestro del viadotto Puleto considerato a rischio crollo. I periti incaricati dal PM Rossi di mettere a confronto i loro dati con quelli contenuti nei documenti ANAS sono piuttosto dubbiosi. Secondo ANAS il viadotto non è a rischio collasso come invece sostengono con forza i due tecnici e la superstrada potrebbe essere riaperta a due corsie, quelle centrali. E' quello che si augurano tutti, soprattutto il tessuto imprenditoriale delle due valli strette nella chiusura, quella del Savio e quella del Tevere, ma la sicurezza e l'incolumità dei cittadini deve prevalere. Intanto sul fronte della Tiberina Trebis, la strada alternativa abbandonata da circa 20 anni, c'è la speranza che quanto affermato dal ministro Toninelli diventi realtà. Lo ha ribadito anche Vincenzo Ceccarelli, assessore alla viabilità e infrastrutture della regione toscana, ospite della nostra trasmissione Nero su Bianco. Il ministro ha recepito queste nostre richieste dando la disponibilità ad intervenire sulla vecchia Tiberina Trebis, addirittura considerando le risorse per questo intervento nell'ambito della cantierizzazione dei lavori che dovranno essere fatti al viadotto del Puleto, che hanno già stati progettati e che hanno già stati appaltati per la sua riqualificazione antisismica. C'è stata anche la disponibilità a considerare il recupero della competenza e quindi il ritorno nel patrimonio di questa vecchia strada che era prevista dalla parte della Romagna sino a Bagno di Romagna anche nella parte toscana, quindi fino ad arrivare almeno a Piave Santo Stefano, meglio se a Sansepolcro. E poi il ministro ha detto anche che si sarebbe fatto tramite delle richieste di ristoro per i danni socio-economici che questa interruzione sta portando sia alle aziende sia alle famiglie di quei territori interessati che vanno ovviamente da maggiori costi per quanto riguarda i trasporti del materiale, ai maggiori costi per le famiglie dei ragazzi che vanno a scuola e così via, quindi è stato un incontro positivo. Dalla Regione Toscana arriva la notizia che decreterà lo stato di crisi regionale e chiederà al Governo l'apertura di uno stato di emergenza nazionale per la totale interruzione dei collegamenti con la dorsale adriatica.